Siamo ormai agli ultimi giorni di questa difficile campagna elettorale, davvero un invito a non credere a tutto quello che ha governato questo paese per vent'anni promette in questi giorni. E' veramente originale questa lettera mandata agli italiani di chi sei mesi fa tutto insieme, tutto compatto il PDL ha votato a favore dell'Imu. Dopo sei mesi mandano una lettera farlocca agli italiani illudendola di restituire in contanti anche magari in moneta estera a chi non vive in Italia, in dollari o in altre monete per restituzione dell'Imu.